Questo progetto è un progetto finanziato dalla misura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020. Lo scopo principale, l'obiettivo principale di questa misura, di questo progetto è quello di reperire tutte le innovazioni tecnologiche che sono disponibili sostanzialmente a livello internazionale e trasferirle sul panorama aziendale che noi abbiamo a disposizione. Questo cosa ci consentirà? Il progetto si chiama Biologico A++, l'A++ sta nella qualità e nella capacità di esprimere valori relativi alla sostenibilità, così un po' quello che troviamo nel frigorifero a più più, a massimo risparmio energetico. Noi pensiamo che l'agricoltura biologica, oltre ad essere un'agricoltura che non fa uso di fitofarmaci e quindi che ha una risposta salutistica elevatissima rispetto ai consumatori, ha anche delle peculiarità relativamente alla sostenibilità, quindi la riduzione massima di ogni impatto possibile. Questo significa utilizzare più conoscenza e meno tecnologie. La provincia di Agrigento dà un cospicuo contributo. Noi in Agrigento abbiamo bellissime aziende molto differenziate sia per la produzione che per la trasformazione. molte di queste aziende, le più importanti, sono racchiuse, sono rappresentate dal Consorzio Isolo Bio Sicilia e rientrano in questo progetto di trasferimento dell'innovazione. Oggi è una giornata di piena soddisfazione, di grande coinvolgimento e di compiacimento per quanto riguarda anche la categoria professionale che rappresento. Mettiamo a tavolo competenza, rete, innovazione, ricerca che portano ovviamente a quella che è una qualità di processo di prodotto e di riqualificazione territoriale. La misura di cooperazione, la 16.1, è quello che possiamo fare noi come agronomi e come dottori forestali in relazione con le aziende. La buona progettualità sotto la chiave dello sviluppo sostenibile di Agenda 2030, della tutela ambientale, della riqualificazione economica del territorio diventa un punto movente molto forte per quanto riguarda questo nuovo periodo. Il progetto biologico A++ è un progetto della misura 16 del PSR 2014-2020 ed è un progetto di trasferimento tecnologico. Sarà il compito del centro di ricerca, olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura della sede di Acireale, dell'altro centro di ricerca che collaborano con noi, ricoltura industriali sempre di Acireale che trasferiranno alle aziende tutte le tecnologie, le innovazioni tecnologiche appunto che studiate e messe a punto per i suoi centri di ricerca. Andremo a trasferire alle aziende perché il prodotto biologico è un prodotto sicuro, perché il prodotto biologico è un prodotto pulito, sano e perché il prodotto biologico è un prodotto sostenibile. Quindi la sostenibilità diciamo che è uno dei temi principali di questo progetto.